Buongiorno a tutti ragazzi, sono Termi, bentorni in questioni sui video della serie Diro il Beat Oggi vediamo Guaio di The Supreme Fit Lazza, ovviamente prodotta da The Supreme Per rifare questo pezzo non ci ha voluto troppo, anche se i accordi sono abbastanza complicati e particolari Infatti con le skill che avevo due anni fa all'uscita dell'album di The Supreme sicuramente non ci sarei mai riuscito a rifare questo pezzo Per quanto riguarda la chitarra, non credo che sia reale, infatti in questo caso ho utilizzato una bank per ricrearla Che è l'Evolution Strawberry della Orange Tree Sample, questa bank l'avevamo già vista anche nella riprod di Beach, sempre di The Supreme Ho aggiunto altri due layer per dare un po' di colore e aggiungere alcune note alla chitarra principale Non potevo suonarle con la chitarra principale per il semplice fatto che ho messo un automation clip sul pitch Che fa un down slide, diciamo un pitch bending verso il basso, per ricreare l'effetto che si sente nella canzone originale Gli accordi utilizzati sono tonica, settimo grado e quarto grado E poi alla fine c'è questo A major che non fa parte di questa scala e non capisco bene dove lo si è andato a pescare Credo che sia forse un'alterazione della quinta di questa scala, però sinceramente non saprei Per quanto riguarda questa progressione non ho capito benissimo la teoria che c'è dietro Quindi mi limiterò a spiegarvi come ricreare questi accordi Soprattutto il secondo che a vederlo così può sembrare un pochettino strano Il primo accordo è il classico D bemolle maggiore, quindi nulla di troppo complicato Basta prendere la nota D bemolle, che in questo caso sul piano roll è C sharp E crearci sopra l'accordo maggiore, quindi in questo modo Da sopra in poi ovviamente ha suonato un'inversione di questo accordo In questo caso va a portare sopra sia quinta che terza E la nota che suona come nota più alta è la quinta Il secondo accordo, che sarebbe quello un po' più particolare, è B sus 2 flat fifth con la sesta In poche parole basta prendere l'accordo B major, che in questo caso sarebbe questo qui In questa scala, quindi sarebbe B, D sharp, F sharp Portare la terza alla posizione della sus 2, quindi C sharp Poi dobbiamo portare la quinta sotto di un semitono, perché appunto è flat fifth Quindi flat sta per bemolle, bemolle vuol dire che dobbiamo spostare la nota sotto di un semitono Quindi la F sharp diventa F E sopra ci aggiungiamo la sesta, che in questo caso sarebbe G sharp Anche in questo caso c'è un'inversione, la nota più alta è F e quelle sotto sono C sharp e B Quindi praticamente la sus 2 e la fondamentale vengono portate sopra di un'ottava E qui c'è la sesta Terzo accordo sarebbe G bemolle di sesta, quindi basta prendere la nota G bemolle Che in questo caso è F sharp sul piano roll, costruirci sopra l'accordo maggiore Quindi F sharp, A sharp, C sharp E sopra ci aggiungiamo la sesta, che in questo caso è D sharp L'ultimo accordo invece è il classico A major, quindi basta prendere la A Metterci questa C sharp come terza, che sarebbe una terza maggiore E metterci poi la quinta che è E, e quindi abbiamo questo accordo qui Ovviamente anche in questo caso c'è un'inversione, abbiamo la C sharp Che è la nota più alta di tutte, che sarebbe la terza Questo giro di accordi alla fine suona in questo modo Per quanto riguarda la chitarra sono andato a fare un po' di modifiche Sulla sezione setup di questo preset Ho spostato principalmente il guitar pickup su neck Quindi la chitarra suonava un pochettino più vicina Credo che questa sia la posizione del microfono Qui l'ho lasciata su single track Se mettete double track diventa un pochettino più stereo E poi ho modificato il fretting position per renderla un pochettino più morbida Per il resto credo di non aver fatto grandi modifiche qui Ma l'ho fatte giusto sulla sezione tono Dove ho aggiunto l'effetto guawa Che è appunto quell'effetto molto particolare che si sente all'inizio sulla chitarra Questi effetti qui, anche se li vedete tutti bellini con l'interfaccia Non sono altro che i classici effetti di contact Che trovate in questa sezione qui, cliccando sulla chiave inglese Prima di questa sezione potete andare a fare delle modifiche un pochettino più avanzate a questi FX Infatti io in questo caso sono andato a linkare un'automation di contact All'amount 1 del cutoff 1 di questo filtro qui Questo filtro qui non è altro che l'effetto che si trova dietro l'interfaccia guawa Perché in realtà il guawa non è altro che un effetto dato da un gioco di cutoff resonance tramite un LFO Visto che nella sezione FX classica di questa bank non c'era una manopola tipo dry-wet Per cercare di alleggerire un po' l'effetto guawa L'ho dovuta creare un pochettino in maniera brusca Tramite appunto un'automation clip che è la 119, l'ho scelta a caso dalla sezione automation di contact L'ho trascinata per collegarla appunto alla mount 1 E poi ho creato proprio l'automation clip su FL Studio Perché se non facevo questo passaggio qui ovviamente non me la faceva creare Questo automation clip non fa altro che aumentare e diminuire In base a quanto sentivo l'effetto guawa nella chitarra originale Il tutto quindi viene in questo modo con questo automation clip Adesso lo vado un attimo a aumentare per farvi sentire che cos'è questo effetto Sarebbe questa roba qui Si chiama guawa perché appunto fa guawa Gli altri automation clip che vedete sono per creare l'effetto di pitch band Che c'è su tutte e due le chitarre Quindi sia su quella main che fai accordi Sia sull'altra che fa le note aggiuntive tra un accordo e l'altro Ho fatto due automation clip diverse perché la prima si trova sulla chitarra principale E la fa andare verso il basso Quindi fa un pitch band di meno 12 Quindi di un ottavo verso il basso L'altra invece fa un pitch band di più 12 E si trova sull'altra chitarra che fa solo le note di sottofondo Per creare questo automation clip su contact È un pochettino più complicato rispetto agli altri WST Infatti dovete fare questo magheggio tramite il WST MIDI Out In WST MIDI Out dovete configurare una di queste manopole E in questo caso io ci ho messo il controller Che era il 34 Perché avevo visto che sulla bank di contact Come controller 34 Come potete vedere qui sulla sezione modulation C'era un pitch bending Come potete vedere c'è scritto pitch MIDI CC sarebbe appunto il controller MIDI Qui ho fatto invert per far sì che questo pitch bend andasse verso il basso E qui ho messo come range di pitch bending 12 semitoni Stessa cosa l'ho fatta sull'altra bank Che suona solo le singole note Come potete vedere qui in basso c'è sempre la sezione modulation Sempre controller 34 Sempre 12 semitoni Solo che in questo caso non c'è l'invert E la cosa che dovete fare per far funzionare il MIDI Out È settare la porta di contact sulla stessa porta del MIDI Out Quindi questo MIDI Out apporta 1 E va su questa bank qui Che ha come input port 1 E l'altro MIDI Out Che è quello che fa il pitch bend verso l'alto Apporta 2 E va sull'altro contact Che come input port ovviamente apporta 2 Una volta fatto ciò create l'automation clip su queste manopole qui E poi potete tranquillamente giocare con questo pitch bending Tranquillamente è un parolone dopo aver fatto tutto a sto giro Però comunque alla fine il tutto suona così Pitch bend Che non suona perché ovviamente non ho attivato l'automation clip Ah yeah Così diciamo che viene abbastanza simile a quello del pezzo originale Ovviamente Davide ha utilizzato queste automation clip E questi pitch bending Per rendere la melodia che sono solo accordi un pochettino più interessante Anche se gli accordi già da soli sono super interessanti Per quanto riguarda la chitarra sopra c'è giusto un guitar rig con questo preset qui Che è rotating Ho tolto tutto tranne questo rotator Che aggiunge un po' di effetto in più per quanto riguarda il tremolo slash wawa Credo che sia più tremolo che wawa questo Però comunque rende la chitarra un pochettino più sporca Sopra c'è un fab filter Sull'altra chitarra che è quella di sottofondo C'è sempre fab filter per tagliare più frequenze RC20 Neutron transient shaper Per dare quell'attacco un po' più forte a quei transienti che non si sentivano molto Lo stesso preset di guitar rig E poi il tutto va sempre su un unico canale Con un po' di compressione RC20 Cob filter per pulire un po' le frequenze Però alla fine la chitarra suona così Senza gli effetti ovviamente suonerebbe molto più pulita Questa sarebbe la chitarra senza effetti Quindi è importante metterci sopra i guitar rig Per simulare questo amp Passiamo ora alle maledette drums L'ho estratte dal pezzo originale Abbiamo lo snare Che è questo qui Fa un classico pattern così Che adesso non parte perché non ho attivato come sempre Poi abbiamo un open head Un altro open head Che non so bene se è un i-head Una roba un po' flenghi Poi abbiamo gli i-head normali Che sono un pattern abbastanza lento Molto molto semplice Kick Abbastanza clippato E infine abbiamo il basso Che non fa altro che seguire le root note degli accordi Se vedete questi slide un po' strani Li ho fatti per diciamo cattare il volume delle note E quindi creare un i-head un pochettino più dinamico Perché sennò c'era il basso dritto tutto il tempo Perché come potete vedere ho un sample che usa i loop points Se non sbaglio Cioè è abbastanza lungo come sample L'ho fatto utilizzando i loop points E quindi dovevo tagliare in qualche modo questo basso L'unica nota strana diciamo Ma per il modo di dire strana È questa C alla fine E credo che sia la classica passing note diciamo che utilizza Potrebbe far parte della scala harmonic minor Credo E quindi lui la utilizza in questo modo Per rendere le robe un attimo più particolari Ovviamente gioca con questi cambi di ottava del basso Che sono abbastanza importanti Un'altra cosa che ho fatto sul basso Per riottenere quel transiente molto forte È ovviamente fare la classica automation sul pitch E quindi ho messo la mount al massimo Il decay abbastanza veloce Per ottenere quel transiente diciamo iniziale Che fa questa roba qui Senza sarebbe così Con Sona così E si sente abbastanza bene Quando le note sono più alte E quindi si ottiene questo effetto di slide Verso il basso del pitch Che crea anche attacco Infine c'è un ultimo riot Che è questo qui Che va in controbattuta agli riot normali Può sembrare stupido Ma crea quel bounce in più nella drums Molto molto importante E il tutto suona così Qui abbiamo un semplice fill Fatto con lo snare Che abbiamo già sentito prima Due rimshot Che sono andato a ripescare Nel mic zara E un triangolo Abbastanza semplice E poi il pezzo è uguale Per quasi tutto il tempo L'unica cosa che cambia Sono le drums Che entrano e escono in alcuni punti E alla fine Credo che ci sia Un effetto O un pad O un effetto Sulla voce di da Supreme Che rende il tutto Molto molto più grande Nell'ultimo ritornello Sembra quasi una specie Di reverbero Shimmer Tipo palalla shimmer Però sinceramente Non lo so Potrebbe essere anche Un semplice pad Molto grosso Però Questo è tutto Anche per questo FLP Come sempre Lo trovate su Patreon Il link è in descrizione Se volete supportarmi E abbonarvi Scaricare gli FLP Vedere i video aggiuntivi Scaricare i sample pack Credo che a breve Farò un sample pack Solo di drums Che ho estratto Dalle varie canzoni Da Supreme In descrizione trovate Anche il link a Beatstars Se volete acquistare I miei soundkit O beat E trovate il link A Instagram Per seguirmi Per tutte le varie novità Di stream Live Tutte quelle robe lì Video no Tutte quelle cose lì Bicchiamo nel prossimo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti